ragazzi buona serata da amici cro buona serata a tutti sono molto contento che domenica abbiamo battuto anche il galle su una zero con gol di pessina grandissimi forza azzurri con una formazione molto rimaneggiata siamo stati nettamente superiori ed ora siamo agli ottavi ed affrontiamo l'auster che ha battuto 1 a 0 stasera l'ucraina nel mitico stadio di wembley mi raccomando ti fate tutti l'italia il 26 a wembley contro l'auster ragazzi e mi raccomando tutti uniti a gridare forza azzurri ciao ragazzi mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al mio canale mickey crow dai ragazzi tutti stretti insieme alla nazionale ciao ragazzi ciao ciao ciao